Salve a tutti i gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo dodicesimo appuntamento di Polis, il primo piano sulla politica a cura di Come Don Quixote. La puntata di oggi abbiamo deciso di incentrarla anche noi su quella che è la questione delle violenze di genere, i cosiddetti femminicidi, per provare a dare una narrazione diversa rispetto a quella estremizzata, polarizzata, che il mainstream ha imposto nell'ultima settimana. Prima però ovviamente faremo la carrellata di notizie, tante notizie da dare. Io sono Massimo Antonio Cascone e questa è la nostra sigla. Allora partiamo con la carrellata di notizie come facciamo in ogni puntata. I giorni appena trascorsi ci sono curiosamente caratterizzati per una serie di circostanze poco felici per il governo Meloni. Tutto è iniziato con il ministro dell'agricoltura Lollo Brigida che ha istituzionalmente, possiamo dire, dirottato un treno di Trenitalia, una notizia che è stata un po' sulla bocca di tutti, anche perché ha costretto il ministro dell'agricoltura a fare una fermata non prevista dell'itinerario, ovviamente del treno, perché in ritardo all'inaugurazione di un parco a Caivano dove doveva partecipare come figura di Stato. Ovviamente sono montate le polemiche rispetto a quanto accaduto, le opposizioni non hanno perso tempo per cavalcare l'onda. E poi è toccato a Giorgia Meloni che durante il question time al Senato il 23 novembre con una piruetta eccezionale ha negato di aver mai detto di essere favolevole all'uscita dell'Italia dall'euro. Ciò ha scatenato una certa iralità, soprattutto sui social, ma anche fatto incazzare quei sovranisti di una volta che l'hanno votata, sperando in molto meglio di così. Neanche il tempo di metabolizzare questa uscita della Premier che il 27 novembre il ministro Crosetto ha riaperto lo scontro con la magistratura, dichiarando in un'intervista al Corriere della Sera di essere venuto a conoscenza di una corrente della magistratura che dibatte di come frenare la deriva antidemocratica a cui ci sta portando l'attuale governo. Per il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Santa Lucia, questa uscita è stata un attacco ai magistrati, ma anche una rappresentazione malevola dell'impianto istituzionale del Paese. Rimanendo sempre in tema magistratura, il 27 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi. Uno che rivede il sistema di valutazione dei magistrati secondo i principi di trasparenza e meritevolezza, l'altro invece pone una stretta alla disciplina del collocamento fuori ruolo delle toghe. Ciò a cui però starebbe puntando il governo in base alle indiscrezioni di questi giorni è però la reintroduzione dei test psicoattitudinali per l'ingresso in magistratura. Infine è notizia di ieri che il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro è stato rinviato a giudizio nel procedimento che lo vede accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito, figura di cui abbiamo molto parlato nella scorsa stagione. Il processo inizierà il prossimo 12 marzo. Andando oltre queste vicende così stranamente ravvicinate, continua il poco credibile braccio di ferro tra il governo e i sindacati, con la nuova precettazione fatta da Matteo Salvini per lo sciopero di lunedì scorso, Giorgia Meloni che ha tentato di convocarle nuovamente a Palazzo Chigi per parlare della legge di bilancio, nonostante sappiamo tutti lo sanno anche loro, anche i sindacati, che ormai è una legge praticamente blindata. Le parti sociali nel frattempo continuano ad annunciare barricate con i soliti slogan, ma probabilmente torneranno presto a stringersi la mano. Anche questa settimana la questione delle concessioni balneari si arricchisce di un nuovo elemento, in questo caso molto positivo. Le sezioni unite civili della Cassazione hanno annullato la sentenza del Consiglio di Stato che confermava l'applicazione della direttiva Bolkestein per diniego di giurisdizione, non avendo ammesso il Consiglio di Stato al contraddittorio dei soggetti legittimati a prenderne parte. La Cassazione quindi ha rinviato a nuovo giudizio il Consiglio di Stato che dovrà però svolgersi con contraddittorio pieno. Spetterà ora al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente tenendo conto anche delle nuove leggi che Parlamento e Governo hanno ratificato dopo la precedente sentenza. Da parte delle associazioni di categoria dei balneari è una svolta molto importante che dà maggior slancio alla protezione delle attuali concessioni. Venendo al tema della puntata che approfondiremo ovviamente nella seconda parte, c'è da segnalare l'approvazione in Senato il 22 novembre del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Precedentemente approvato dalla Camera dei Deputati il 26 ottobre 2023. Approvazione unanime che ha visto tutte le forze convergere però in un Senato, questo c'è da dirlo, praticamente semideserto. A ciò ha fatto seguito poi la presentazione da parte del Governo di educare alle relazioni, un piano del Ministro dell'Istruzione Valditara. Il progetto si sviluppa su più piani con l'educazione civica dalle elementari alle superiori per affrontare il tema del maschilismo, del macismo e della violenza psicologica e fisica sulle donne. Il Ministero ha anche spiegato che sono previsti dei corsi tenuti da psicologi e influencer e questo lo commenteremo dopo. Successivamente il 25 novembre si è svolta la giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ha visto scendere in piazza decine di migliaia di persone. Per l'occasione Camera e Senato hanno aperto le porte ai cittadini, il Senato è stato illuminato di rosso, mentre a Montecitorio in alcune aule si sono potute ascoltare le testimonianze di donne vittime di violenza. Concludiamo con quelle che sono invece le notizie europee, gli ultimi aggiornamenti. Il 22 novembre Giorgia Meloni è volata in Germania per incontrare il cancelliere Scholz e parlare di quelle che sono le varie questioni aperte in Europa. Due su tutte, patto di stabilità e migrazione. Due giorni dopo, il 24, è arrivato il via libera della Commissione europea alla revisione del PNRR dopo le modifiche fatte dalla cabina di regia dell'esecutivo Meloni, il piano prevede ora 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originale. Sullo sfondo alleggiano la questione MESS, nonché la revisione del bilancio pluriannale dell'Unione. Queste erano le notizie della settimana, adesso il servizio di puntata. L'estremizzazione del dibattito e la generalizzazione delle colpe sono ormai segni distintivi di tutte le narrazioni occidentali. Dai vecchi No Global agli attuali Novax, passando per i cattivi russi e i palestinesi terroristi, fino ad arrivare ai negazionisti climatici, troviamo sempre una categoria su cui scagliare di volta in volta l'odio sociale, ingrediente fondamentale per il dibattito mainstream. Ad essere oggi al centro di questo vortice criminalizzante sono gli uomini italiani, impregnati, savasandir, di una cultura maschilista e patriarcale, della quale devono essere spogliati in quanto causa di tutti i mali della nostra società. E allora quale occasione migliore dell'omicidio di una povera ragazza per scagliare un ennesimo colpo alle differenze di genere, aditare come deleteria l'educazione familiare e imporre un nuovo indirizzo ai ruoli sociali. Il tutto, anche se non dichiarato, in nome di una fluidità sociale oltre che di genere che strizza l'occhio al globalismo transumanista. Per tutti lo stesso ruolo e destino, quello di criceti che corrono dentro una ruota per mantenere in piedi il sistema. È un modus operandi che abbiamo imparato a conoscere in questi anni e che non permette obiezioni o confronti. Tutto deve essere bianco o nero, o con noi o contro di noi. Non c'è spazio su temi complessi per lo sviluppo di un ragionamento critico. Creato a tavolino un problema e potenziato grazie al bombardamento dei media, l'agire del governo diventa conseguenziale e giustificato dalla massa. Campo libero quindi all'introduzione di corsi contro la violenza psicologica e fisica sulle donne, fin dalle elementari. Nonostante, secondo l'indagine dell'International Civic and Citizenship Education Study, gli studenti italiani di 13-14 anni abbiano atteggiamenti più favorevoli rispetto alla media internazionale nei confronti dell'eguaglianza di genere. Ma ormai la generalizzazione è partita. Gli italiani sono maschilisti, punto e basta. Quando sarà rieducato alla perfezione, il nuovo cittadino diventerà lo specchio perfetto di quest'Occidente in decadenza, dove gli slogan e l'apparenza sostituiscono il pensiero. Allora eccoci tornati in studio, saluto subito i miei ospiti, l'avvocato Umberto Del Noce e il professor Luca Lanzalaco. Allora come dicevamo abbiamo deciso anche noi di cercare di delineare quanto sta accadendo successivamente alla morte di questa ragazza. Comunque una tragedia e questo nessuno lo nega ma come è una tragedia qualsiasi decesso che abbiamo anche dovuto commentare nel corso delle puntate, penso i morti sui lavori piuttosto che i bambini che vivono a Gaza. È chiaro che ogni volta che si spegne una vita non è mai una cosa bella, soprattutto poi se accade per motivi non certamente militari. Insomma una cosa è essere un soldato che muore sul campo di battaglia, una cosa è vedere civili e innocenti morire. Però come abbiamo detto anche nel servizio accade spesso che ad un problema che viene trasformato o comunque viene pompato dal mainstream per diventare un'emergenza il governo e soprattutto il governo Meloni poi risponde, risponde con delle modifiche, con dei provvedimenti che andranno a modificare strutturalmente la società comunque nel medio lungo periodo. Allora prima di cedervi la parola io voglio farvi vedere alcuni dati che ci aiutano a inquadrare il discorso e chiedo a Giulio quindi di mandare il primo contenuto. Come vedete in questa tabella con i dati ISTAT questo è la percentuale di donne uccise da partner, da ex partner o da parenti, quindi quello che viene considerato il femminicidio dal punto di vista di interpretazione che viene fatta nella società, che viene fatta anche nel diritto da un certo punto di vista, anche se non esiste una vera e propria figura giuridica del femminicidio, ma questa è l'interpretazione che gli si sta dando. Come vedete la percentuale di donne uccise nel corso degli anni ogni centomila donne residenti, tutto sommato sta rimanendo abbastanza stabile, ci sono stati dei picchi verso l'alto intorno al 2010, tra il 2008 e il 2010, dei picchi verso il basso magari invece tra il 2004 e il 2006, ma tutto sommato una percentuale che resta stabile nel tempo. Se possiamo andare a vedere invece il secondo contenuto, vediamo quella che è la la media dei paesi europei per quanto riguarda il numero dei femminicidi, questi sono dati del 2019, fonte Eurostat, ebbene vediamo che comunque l'Italia è nella parte bassa della classifica, potremmo definire la parte bassa della classifica, quindi comunque con una percentuale di femminicidi molto molto bassa rispetto a molti altri paesi europei. Questi sono dati insomma Eurostat, Istat, che comunque fotografano una situazione e a questo punto passo la parola al professore per chiedergli che cosa ne pensa. Sì, buongiorno di nuovo a tutti, ma vediamo gli eventi. Il 18 novembre viene trovato il corpo di Giulia Cecchettin, il 22 novembre abbiamo detto è stata approvata la legge in Senato, il 26 novembre 500.000 e le donne manifestavano a Roma contro i femminicidi, contro il patriarcato, ma si sono viste anche bandiere palestinesi che non si sa che rapporto potessero avere con gli eventi di cui si parlava prima. Allora, anzitutto vediamo se l'omicidio, perché di questo si tratta, di conoscenza, questa ragazza può essere considerato, quello che nell'analisi delle politiche pubbliche sono cose da manuale, non sto, viene chiamato un evento focalizzante. Cos'è un evento focalizzante? È un evento grave che suscita un cambiamento improvviso nelle politiche relative a quell'area. Questo termine fu coniato per studiare empiricamente il caso del mostro di Marcinelli, un pedofilo che aveva ucciso, non mi ricordo quanti bambini e bambine, fu catturato e questo provocò nell'opinione pubblica del sistema politico belga un cambiamento radicale. Vennero unificate le forze di polizia destinate alla lotta contro la pedofilia, venne creata una commissione parlamentare per studiare il problema e ci fu quello che viene chiamato tecnicamente policy change, un cambiamento nelle politiche, repentino, dall'oggi al domani. Possiamo definire il ritrovamento del corpo di questa povera ragazza un evento focalizzante? La risposta dipende a seconda dell'arena che noi guardiamo. Allora se noi guardiamo l'arena mediatica, il mainstream, sì sicuramente, sicuramente siamo stati inondati da programmi, interviste dove osservatori, esperti dicevano la loro, quindi sicuramente a livello mediatico questo è accaduto. Sui social è accaduto anche questo, ma suscitando una reazione quasi avversa. Su numerosi canali ci sono state posizioni critiche nei confronti di questo movimento, di questa opinione unanime contro i femminicidi. Non è che ci fossero canali a favore del femminicidio, ma tendevano a ridimensionare il fenomeno e soprattutto a contestare quello di cui si è parlato nel servizio, su cui poi voglio tornare, e cioè la generalizzazione. Quindi sui social c'è stato questo evento, questo effetto, i sociologi lo chiamano perverso, un effetto non voluto, un effetto collaterale. Nelle piazze, certo, sicuramente c'è stata una grande mobilitazione, fatto in sé, a prescindere da tutto, a mio parere positivo, perché in una fase di completa stagnazione del dibattito e della partecipazione politica, vedere delle piazze piene comunque, a mio parere, è un fatto positivo. A livello di sistema politico e di azione di governo, no, a mio parere no. E do questo parere questo giudizio tassativo senza... Noi andiamo a vedere la legge approvata, vediamo che è cambiato veramente ben poco. Allora, meglio che ci sia quella legge piuttosto che non ci sia, non sto dicendo che è una legge dannosa, ma è una legge che, come vedremo, potrà avere, se avrà, degli effetti molto limitati, anche perché di fatto recepisce provvedimenti già proposti, per esempio, riprende pienamente il testo che era stato proposto durante il governo Draghi. Quindi l'evento focalizzante al massimo ha accelerato la procedura parlamentare, ma non ha certo condizionato i contenuti. Vediamo rapidamente, e quindi mi scuso, ma anche superficialmente la legge. Io la guardo da, non da giurista, perché non sono un giurista, ma da analista di politiche pubbliche. Quindi questa è la mia prospettiva. Primo, io ho il titolo. Il titolo è Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e la violenza domestica. Ecco, dopo aver letto e riletto, poi vi spiego anche perché dico riletto, il testo, io modificherei già il titolo, perché sì, sono disposizioni per il contrasto alla reiterazione della violenza. Cioè, se noi vediamo, la maggior parte degli, se non tutti, gli interventi proposti, sono interventi che avvengono dopo che è avvenuto un evento. Chiaro? Cioè, per evitare che si ripetano gli eventi, allora bisogna intervenire in questo e questo modo. Si interviene a babbo morto, o in questo caso a mamma morta, o quasi. Cioè, no, si chiudono i cancelli una volta che i boi sono scappati. Quindi sono provvedimenti sensati, ma eh, ex post, ex post, una volta che il fattaccio, o meglio il primo fattaccio avvenuto per fare in modo che non ci siano poi ulteriori episodi contro la vittima o contro anche familiari della vittima. Quali sono i contenuti di questa legge? Ripeto, sono undici pagine, scritte, fitte, scritte fra l'altro anche in modo totalmente e totalmente incomprensibile e qua prima o poi bisognerà ragionare su questi testi di legge che sono, se mi date un minuto vi leggo un, sono quattro righe ma per farvi capire e che cosa intendo dire e quando dico illeggibili, la fruibilità, la leggettà delle norme. Allora sto parlando dell'articolo 1,3 parte B, leggo, sono quattro righe e lo sto leggendo direttamente. All'articolo 11,1, dopo la parola, aperte le virgolette, 572, chiuse le virgolette, sono inserite le seguenti, aperte le virgolette, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, più virgola, 583 quinquies, chiusa le virgolette e le parole, aperte le virgolette, 609 octies o 6612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, sono sostituiti dalle seguenti 609 octies, 612 bis o 612 ter del codice penale. Allora queste 4-5 righe possono contenere le cose più belle di questo mondo, le cose più oscene e atroci, non si capisce assolutamente nulla e quindi c'è da domandarsi se le leggi siano fatte così male apposta o perché sono scritte da incompetenti. Dicevo ecco quali sono i contenuti, non posso riassumere 11 pagine di testo scritte anche, oltre che illegibili anche siete molto fini, ma vediamo l'idea qual è, l'iglea è quella di impedire che chi ha commesso o minacciato di commettere un reato possa ripetere o attuare questa sua intenzione, per cui ci sono norme stringenti sull'allontanamento e su chi trasgredisce allontanamento, sul braccialetto elettronico e anche sulla possibilità di imputare attraverso la flagranza differita, articolo 10 dice ma è uno simoro o è flagranza o è differita, no perché qua si fa riferimento alla possibilità di produrre in giudizio dei filmati di atti di violenza. Quindi primo pacchetto di provvedimenti è tenere l'individuo pericoloso, distante, lontano, disincentivare ogni tentativo di tornare sul luogo del delitto. Il secondo tipo di interventi è la formazione di operatori giudiziari e operatori sociali che operano in questo campo. Terzo settore di intervento è rendere le procedure più rapide, creare un termine abbastanza utilizzato, non nella legge, nel dibattito corrente, una corsia preferenziale per questo tipo di reati, in modo tale che non ci possano essere perdite di tempo. Quindi lo stile che viene adottato è quello che appunto nell'analisi delle politiche pubbliche viene chiamato uno stile reattivo, non proattivo. Non c'è prevenzione, c'è casomai un atteggiamento esposto, cioè provvedimenti esposti finalizzati a evitare che appunto il colpevole torni sul luogo del diritto. Ma quello che fa cascare veramente le braccia, mi limito a questo, è l'articolo 19. L'articolo 19 dice tutto bene, ma tutto ciò non deve incidere, anzi se mi date tre secondi vado a farlo. L'articolo 19, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente. Cioè in pratica fare le nozze coi fichi secchi. Noto che questo provvedimento assume una particolare, ci si rende conto di questa inconsistenza di questo articolo per due motivi. Primo perché nell'articolo 18 vengono previsti dei percorsi di rieducazione, chiamiamoli, per coloro i quali hanno commesso atti di questo tipo, di violenza familiare, domestica nei confronti delle donne. Quindi corsi come si organizzano. E secondo, proprio in questi giorni stanno discutendo, anzi forse è già stato deciso, di aumentare di 5 milioni di euro il fondo per il bonus psicologi. Quindi vuol dire che quando si vuole i soldi per interventi preventivi ci sono. Concludo. In questa legge, ovviamente, che per le leggi come noto devono valere erga omnes, per cui questo testo tratta tutte le situazioni di violenza o minaccia di violenza allo stesso modo. Quindi incorpora quel principio di generalizzazione di cui se parlava il servizio e poi è stato ripreso prima da Massimo Goscone. Ecco, io vorrei concludere questo mio intervento facendo notare una cosa, che la generalizzazione del carnefice, il maschio, implica una cosa ben più pericolosa, che è la generalizzazione della vittima e delle situazioni in cui viene commesso il reato. Cioè, si appiattisce in un unico universo quelli che invece sono fatti specie differenti. Non dico più o meno gravi, non dico che ci sono gli omicidi di serie A, quelli di serie B. Però intendo dire questo, che determinati interventi possono servire in un contesto ma non in un altro. Più chiaramente, l'omicidio di Giulia Cecchettin non è avvenuto in una situazione dove c'era aggressione sessuale. In altri casi, invece, avviene in una situazione dove c'è aggressione sessuale. Trattiamo tutto nello stesso modo. Ripeto, non sto dicendo dal punto di vista morale, ma dal punto di vista di interventi di politica pubblica. Ha senso trattare tutto nello stesso modo? No, non ha senso perché le misure che potevano servire, per esempio, nel caso di stupri, dopo che le donne sono state portate ad assumere quantità eccessive di alcol. Quegli interventi, che vorrebbero dire controlli presso discoteche, bar, eccetera, non sarebbero serviti assolutamente a nulla a prevenire l'omicidio di questa povera ragazza. Concludo, poi sul serio mi taccio, e noto due cose da buon populista. Primo, non mi è chiaro, vorrei che qualcuno me lo spiegasse, come mai, se qualcuno rivendica il diritto delle donne a non essere molestate e uccise, non gli viene detto che è un populista, ma se qualcuno rivendica il diritto, i diritti dei disoccupati, dei lavoratori precari, è un populista. Ecco, non riesco a capire la differenza, se non la differenza sta nel fatto che il termine di populista viene usato semplicemente per delegittimare l'avversario politico. Ultimo punto, allora da questa conta tristissima, tristissima, ma che è stata fatta, non alludo a quello che è stata appena fatta in trasmissione, ma sui media, allora noi abbiamo, il dato che emerge, è una donna, un femminicidio ogni tre giorni. Le statistiche sui morti sul lavoro sono tre morti al giorno, ciò vuol dire che in tre giorni muore una donna, ma muoiono nove lavoratori mentre stanno lavorando. Allora, la domanda è questa, vedremo prima o poi 500.000 persone in piazza per tutelare i lavoratori, evitare incidenti sul lavoro o i diritti di un lavoratore valgono un nono dei diritti di una donna. Professore, grazie, direi che questa provocazione dà anche il senso di quanto è stata pompata questa storia dei femminicidi e quanto invece alcuni problemi strutturali della nostra società non vengono presi in considerazione, forse probabilmente perché non tirano così tanto e quindi non si può fare speculazione, non si può organizzare programmi televisivi e soprattutto poi spronerebbe il governo e anche il Parlamento a dover prendere dei seri provvedimenti, cosa che con le risorse attuali ovviamente difficilmente si potrebbe fare. La ringrazio poi per aver spiegato insomma come questa legge che è stata approvata, oltre a essere scritta praticamente soltanto per gli addetti ai lavori, se vogliamo commentare così positivamente il testo, in realtà non va a eliminare quelle che sono alcuni incidenti, ne va a fare prevenzione e forse a questo punto la prevenzione il governo la farà con quello che è il piano che il Ministro Valditara ha presentato, cioè educare ai sentimenti. Allora io chiedo a Giulio di mandare il contenuto numero tre che inquadra un po' quello che è il piano che il Ministro dell'Istruzione ha presentato successivamente all'approvazione in Senato della legge di cui abbiamo appena parlato, ebbene secondo il Ministro Valditara questo piano che si chiama educare alle relazioni, educare ai sentimenti, prevede dei corsi extracurriculari rispetto all'orario scolastico fatti da psicologi, ma anche come potete leggere abbiamo preso questo titolo di giornale ma ce ne sono stati vari, anche corsi fatti da influencer, influencer che quindi entrano ufficialmente come figure di riferimento all'interno delle scuole, figure alle quali le istituzioni, almeno secondo il piano Valditara, vogliono concedere l'educazione dei più piccoli, dei più giovani. Allora io a questo punto approfitto per passare la parola a Umberto Del Noce, per chiedere anche a lui un commento rispetto a questi che sono i provvedimenti del governo, abbiamo detto dei provvedimenti generalisti che avranno poi anche un impatto molto forte, come possiamo leggere anche da questo titolo, sui più giovani, nonostante come dicevamo nel servizio in realtà i giovani italiani sono tra i più propensi in Europa a vedere positivamente quella che è la parità di genere, quindi tecnicamente forse di questi corsi non ci sarebbe bisogno. Ma da un certo punto di vista bisogna riconoscere che è difficile intervenire in certe situazioni prontamente. Molto spesso violenze avvengono proprio per la difficoltà di intervenire incisivamente in situazioni di fragilità, la paura di denunciare, io riconosco che questo sia un problema grosso per un legislatore. Quindi effettivamente forme di prevenzione non possono che essere culturali, questo lo capisco. Da un certo punto di vista mi spaventa però quando il governo vuole educare i cittadini, quando lo Stato si mette a fare da educatore, un po' mi preoccupa sempre. Detto questo, io leggo anche una forma di contraddizione nel modo in cui vuole essere attuata questa educazione, cioè a mezzo di influencer, quindi diciamo la competenza viene rimpiazzata dalla capacità di influenzare i ragazzini, questa è la che abbiamo già visto diciamo avvenire in epoche a noi vicine con emergenze sanitarie, però ecco questo secondo me mi apre uno spunto che vorrei fare, che vorrei proporvi di riflessione, cioè l'altro giorno ho visto un'intervista a Travaglio dove diceva secondo me il problema non è il patriarcato, perché il patriarcato non esiste più, è un problema di maschilismo, cioè il problema di questa società diceva che è la società del casino, non la società patriarcale. Ecco, io da un certo punto di vista sono d'accordo, definirei solo questo casino, cioè secondo me, per mio modo di vedere, il problema è forse l'opposto del patriarcato. Leggevo recentemente anche una definizione di femminicidio secondo cui in qualche modo è un episodio che avviene spinto da una sola struttura patriarcale, ecco. Però se guardiamo la nostra società in realtà quello che noi vediamo è l'evaporazione del padre, per usare i termini diciamo psicologici della psicanalisi, cioè quello che mi sembra è che nel tempo è venuta a svilirsi la figura simbolica del padre, come anche il guardiano del limite e quindi come appunto guardiano del senso del limite di ciò che si può fare e non si può fare. E non solo, anche la funzione del padre come in qualche modo elemento che diciamo rompendo la simbiosi che avviene naturalmente fra il figlio e la madre, apre al figlio la possibilità di un mondo di relazioni. E se questo ruolo non viene fatto, tanto per un'assenza fisica quanto per un'assenza simbolica, c'è il rischio che il figlio rimanga inghiottito da questo rapporto diciamo candibalico con la madre in epoca infantile e che in generale sviluppi quello che secondo i vari pari della psicanalisi viene detto narcisismo. E quindi io credo che il problema vero di oggi sia quello del narcisismo, non tanto quello del patriarcato, cioè siamo una società di eterni bambini, di superuomini dai piedi d'argilla e quindi molto fragili e diciamo terrorizzati di essere posti davanti al senso del limite, il limite anche alle nostre capacità e il limite della nostra capacità di stabilire anche relazioni, di ottenere i nostri desideri e quindi viviamo con il terrore che il mondo ci restituisca i nostri limiti. Ed è questa grande fragilità che secondo me guida molta di questa violenza, guida questa incapacità di accettare un rifiuto, questa incapacità di assumersi come limitati e quindi questa incapacità di accettare che il mondo ci dica che abbiamo dei limiti, che ci sono persone magari più brave di noi a fare qualcosa e quindi io credo che in questa direzione dovrebbe andare un'educazione del cittadino e dei ragazzi più giovani, perché io vedo molti ragazzini despoti, incapaci di accettare un no dei genitori, incapaci di accettare dei limiti dei genitori. Vedo genitori che invece di fare genitori fanno gli amici dei figli, che chiedono ai figli permesso di, non so, di mettergli una felpa, di mettergli una giacca, no? E quindi cresciamo questi ragazzini come dei duci, come dei sovrani assoluti che poi non sono in grado di affrontare il mondo e affrontare i propri limiti. E i social per esempio in questo hanno peggiorato la situazione secondo me, perché pongono questo bisogno di attenzione, pongono questo bisogno di conferma e di grandezza in pasto a milioni di utenti incattiviti dalla stessa bisogno e della stessa ricerca. In questo senso affidare agli influencer l'educazione dei nostri figli, cioè affidare a chi in questo meccanismo perverso si è imposto, è imposto la propria fragilità sul mondo per educare, per insegnare i nostri figli, le relazioni mi spaventa molto, perché andrebbero invece educati a non usare o a usare molto meglio i social network e accettare i propri limiti e accettare delle figure di autorità. Il problema è che noi come genitori, diciamo, facciamo anche una autocritica, non siamo forse più in grado di essere autorevoli e la forma più vile di autorevolezza è l'autoritarismo, quindi spesso si cade lì. Ma noi non abbiamo bisogno di adulti autoritari, abbiamo bisogno di adulti autorevoli e questo manca non può essere rimpiazzato da corsi con psicologi e da influencer. Io vorrei un'educazione contro il narcisismo e un'educazione che approfondisca e insegni ai nostri figli le insidie della cultura digitale e le insidie dell'utilizzo di social network, che sfruttano meccanismi di dipendenza tali quali le droghe, e quindi non vedo perché per esempio il fumo, droghe e alcol siano vietate, mentre i social network no, o perché non vengono messi avvisi in tal senso. Ecco, secondo me ci vorrebbe una maggiore consapevolezza degli insegnanti, degli adulti, sui rischi di questo sistema di comunicazione e di relazione, e questo venga affrontato intensivamente nelle scuole. Umberto, io sono molto d'accordo con la tua riflessione. Aggiungo che secondo me l'errore è anche quello di non puntare su una migliore educazione familiare, con l'analisi che facevi tu, quindi con genitori che sono autorevoli e non autoritari, ma anzi lasciare che questa educazione venga fatta in luoghi lontani dal nucleo familiare, cioè la scuola, con soggetti poi come gli influencer, che a differenza magari degli insegnanti, che diventano anche una sorta di secondi genitori per una certa parte della vita, perché c'è un rapporto costante tra l'alunno e l'insegnante, invece questi influencer sono delle figure distaccate che fanno dei corsi, una tantum durante l'anno, ma che poi non hanno un vero e proprio rapporto empatico con i più piccoli. Quindi secondo me invece sarebbe importante dividere i ruoli. La famiglia educa, la scuola istruisce, se lasciamo invece alla scuola e soprattutto agli influencer educare i nostri figli andiamo a svilire da un lato la figura dei genitori e anche quello che è il ruolo naturale del nucleo familiare e formattiamo le teste dei più piccoli in base a quello che poi sono le volontà dello Stato stesso che impone questo tipo di educazione. Quindi secondo me sarebbe importante che i genitori si riappropriassero del loro ruolo di educatori, ovviamente un'educazione, come dicevi tu, autorevole e non autoritaria, su questo non c'è assolutamente dubbio. Sì, sono d'accordo e tra l'altro il problema è anche un po' questo, cioè che in realtà la famiglia viene attaccata proprio in quanto cellula di educazione, in quanto luogo di formazione ai valori comunitari e sociali, quindi tutta la nostra cultura in questo momento va infatti a colpire tutti i luoghi in cui si forma comunità e la famiglia è forse il primo e la cellula base, anche la nostra Costituzione riconosce la famiglia in fondo come atomo di comunità che ha fondamento della comunità più vasta che lo Stato e quindi certo la famiglia dovrebbe ritornare ad avere questo ruolo e i genitori devono riappropriarsene con la difficoltà di essere in un sistema internazionale che in realtà vuole smantellare questo istituto e in particolare la sua funzione, in modo tale che appunto l'educazione dei più piccoli venga totalmente affidata a istituzioni impersonali o a influencer che in qualche modo si sono adeguati a un sistema dominante di valori e di narrazione, altrimenti influencer non sarebbe. Esatto, tutti cresciti che corrono come dicevamo anche nel servizio. Professore se lei non vuole aggiungere altro passerei al secondo argomento di puntata perché ovviamente oltre a questo che era il tema centrale come al solito cerchiamo di dare uno sguardo critico anche ad altre notizie durante la settimana. Professore ci sono una serie di tavoli da gioco aperti tra l'Italia e l'Europa e sicuramente l'uscita di Giorgia Meloni sull'Euro non ha accontentato una parte del suo elettorato. Allora sì, i tavoli aperti li abbiamo ereditati dai mesi scorsi e ne saltano fuori di nuovi a ritmo incessante e l'ultimo, speriamo perché è di mercoledì 22 novembre quando vengono approvate dal Parlamento Europeo una relazione, una risoluzione sulla revisione di ben tre trattati fondativi dell'Unione Europea. Cioè stiamo parlando di una riforma istituzionale profonda, radicale, cioè noi stiamo qua a giochicchiare il premierato eccetera e in Europa questi vanno avanti su cose che come vedremo sono molto seri. La prima cosa che volevo sottolineare è questo, che nel comunicato, perché i numeri sono importanti, nel comunicato stampa del Parlamento Europeo viene detto a larga maggioranza, anzi scusate, ad ampia maggioranza viene approvata eccetera. Ampia maggioranza no, non è vero, perché la relazione è stata approvata con 305 sì, 276 no, 29 astenti. Allora se voi fate la somma, 276 più 29 fa esattamente 305. Quindi che ampia maggioranza, metà del Parlamento l'ha approvata, ma l'altra metà non l'ha approvata, ma ancora più significativo è il dato sulla risoluzione, che è quella decisiva, perché passerà al Consiglio d'Europa e qui addirittura cosa abbiamo? I sì calano a 291 da 305, i no più o meno stabili, 274 e aumentano gli astenuti, 44. Anche qui una somma, 274 no, 44 astenuti fanno 318. Quindi qua addirittura la risoluzione è stata approvata da una minoranza. Che cosa è successo? Politicamente politicamente si è frantumata la cosiddetta coalizione Ursula e metà dei popolari si sono tirati indietro. Quindi è stata una debacle nonostante quanto sia stato, nonostante invece le istituzioni europee, non solo quelle, abbiano vantato un successo. Tutto ciò si aggiunga ripeto, qua i tavoli si vengono aperti come i Deor in pieno centro, che il 29 novembre Mario Draghi, in una presentazione del libro di Aldo Cazzullo sull'impero romano, argomento come è noto Mario Draghi, uno dei massimi esperti, ha colto l'occasione per dire che l'Unione Europea deve diventare uno Stato. Queste sono le parole che lui ha utilizzato. Quindi a livello europeo si stanno muovendo cose importanti ed è bene, bene conosce. Allora non abbiamo tempo di guardare la documentazione, se la redazione è d'accordo gli mettiamo poi i link in descrizione. Ecco, sono documenti fatti meglio di quelli italiani perché qui che cosa c'è? C'è il testo vecchio della legge e quello emendato. Quindi si vedono il confronto. Ecco, almeno su questa cosa l'Europa ha qualcosa da insegnarci. Allora non posso fare appunto una sintesi di tutti i mutamenti, cerco di sintetizzare, poi torneremo, tornerò in altra sede in maniera più dettagliata. Sostanzialmente qual è il disegno istituzionale che sta alla base di questa riforma? È quello di far diventare, allora detta fuori dai denti, è scignottare sostanzialmente il sistema istituzionale americano. Sostanzialmente è questo, no? Quindi gli Stati Uniti d'Europa dovranno somigliare agli Stati Uniti d'America e quindi un sistema bicamerale. Notatevelo, voglio, non è una mia libera interpretazione. Scusate, carico il testo un attimo, no? Questi sono i link. Allora, volevo, è proprio esplicitamente detto, allora il Parlamento chiede riforme che rafforzino la capacità dell'Unione Europea di agire e diano più voce ai cittadini. Poi vedremo in che modo, tra le proposte presentate figurano, punto uno, un sistema più bicamerale, notate bicamerale, il Parlamento europeo è uno, e c'è una ragione, perché vedremo che cosa intendono per bicamerale, per evitare situazioni di stallo attraverso un maggiore ricorso al voto a maggioranza qualificata e alla procedura legislativa ordinaria. Allora, questo riferimento bicamerale, che ovviamente quando ho letto mi ha fatto saltare sulla sedia, perché dico bicamerale in che senso? Beh, poi leggendo il testo si capisce che cosa intendono per bicamerale. le due camere dovrebbero essere da un lato il Consiglio europeo, cioè da un lato il Parlamento europeo e dall'altro il Consiglio europeo. Quale sarebbe la seconda camera, impropriamente chiamata camera, dovrebbe essere il Consiglio europeo, che è formato dai capi di Stato e di governo degli Stati membri. Quindi scimmiotta sostanzialmente una specie di Senato americano. E nel progetto di riforma, di fatto, vengono contrapposti, viene indebolito il Consiglio, dove vengono rappresentati gli Stati e viene rafforzato il Parlamento, dove vengono rappresentati invece i cittadini. Non so se è stato chiaro. Il Parlamento europeo è eletto dai cittadini, il Consiglio c'è la rappresentanza degli Stati. Allora, vengono contrapposte, vengono chiamate due camere, ma di fatto il Consiglio Europa non è una camera, ma la fanno diventare, poi vedremo che linguisticamente fanno un'altra operazione non trasparentissima, e potenziano il Parlamento. Quindi molte procedure che attualmente sono di pertinenza del Consiglio d'Europa diventano invece procedure di codecisione. Quindi mettono in pratica l'Assemblea che rappresenta i cittadini contro l'Assemblea che rappresenta gli Stati, indebolendo questa seconda. In pratica è un modo surrettizio di far passare un disegno, un'architettura istituzionale di tipo federale. Quindi rafforzamento delle strutture centrali e indebolimento degli Stati. Passaggio, come abbiamo visto, fondamentale, la riduzione, praticamente eliminazione dell'unanimità, il passaggio alla maggioranza qualificata o qualificata e rafforzata, il che porta a un ulteriore indebolimento degli Stati. Secondo punto, la politicizzazione della Commissione. Notate che nel testo della riforma la Commissione viene chiamata esecutivo. È l'esecutivo, ma non in termini metaforici, cioè gli cambiano denominazione. Quindi siamo proprio alla imitazione più banale sostanzialmente del modello statunitese. Perché politicizzazione? Perché il Presidente della Commissione ha la libertà di scegliere i commissari sulla base di opzioni politiche e non di rappresentatività degli Stati. Altro punto, ampliamento significativo, molto significativo, le competenze erano esclusive degli Stati. Ve le leggo e capirete al volo dove stanno andando a parare. Primo, salute, soprattutto laddove riguarda problematiche di tipo trasfrontaliero. Prepariamoci a nuove pandemie, emergenze eccetera eccetera. Ambiente, istruzione e ricerca, che vuol dire sostanzialmente cultura, energia, transizione verde e difesa. Abbiamo già visto che nel discorso pubblico dell'Unione Europea questo tema della difesa lo stanno facendo entrare molto rapidamente con la costituzione di un'unità d'azione per reazioni rapide. È brutto reazioni rapide perché vuol dire che questi signori possono decidere di operazioni belliche in tempi rapidi, quindi saltando le procedure d'emergenza. Ecco, quindi concludendo, di che cosa si tratta? Si tratta di un tentativo di rafforzare chiaramente l'Unione Europea, ma all'interno dell'Unione Europea di rafforzarne i vertici apicali, indebolendo gli Stati. Indebolendoli da vari punti di vista perché l'Unione Europea si è scatenata. Vi ricordo solo quattro punti, il quarto ci facciamo magari anche qualche risato, capirete perché. Primo punto, lo sappiamo, l'adeguamento agli standard energetici che vuol dire che verranno imposti a famiglie e condomini delle spese e verranno imposti a delle spese di decine di migliaia di euro che difficilmente saranno sostenibili e quindi arriveranno le multinazionali a dare una mano o meglio a appropriarsi delle nostre abitazioni. Seconda cosa che è passata abbastanza inserata, però è stata introdotta due settimane fa, una normativa per cui i campi agricoli dovranno avere coltivazioni alternate, cosa che notate, i contadini facevano già, ma adesso viene stabilito dall'Unione Europea e vedrete anche qui arrivare le multinazionali e ci troveremo i campi di soia perché le multinazionali hanno profitti enormi sulla soia. Terzo argomento, io lo tocco solo però io penso che dovremo parlarne di questo e cioè le bollette. Le bollette e il libero mercato che non è affatto libero, un mercato non è affatto libero, cioè parliamo da un mercato tutelato, un mercato contingentato, ormai è chiaro a tutti che il mercato cosiddetto libero costerà a tutti di più, ma la liberalizzazione del mercato dell'energia fa parte del pacchetto PNRR e la liberalizzazione era un impegno che Draghi aveva preso. Ultimo punto, lo dico per chi non sa come passare la giornata di oggi e di, scusate ma questa quando l'ho vista è troppo 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 bella. Oggi e domani, se avete tempo, si terrà a Cesena un incontro, il 30 novembre, il primo dicembre si terrà a Cesena il primo meeting europeo sul patrimonio dissonante in cui verrà annunciato un nuovo progetto europeo nato con l'obiettivo di ripensare gli edifici costruiti in periodi storici difficili portatori di valori controversi. Cioè in pratica l'idea è quella di ripensare gli immobili nati nel periodo del ventennio. Quindi, non so, verranno rase al suolo forli, forli in popoli, cittadini che sono state praticamente, che è pura, soprattutto forli in una storia, però sono state edificate dal regime fascista, verranno rase al suolo sicuramente le camere del lavoro, perché molte camere del lavoro sorgono dove c'erano allora case del popolo, che oggi ospitano anche scuole. Quindi, capite, c'è questo tentativo dell'Unione Europea addirittura di cancellare la storia. Mentre c'è la polemica, che adesso si è attenuato un attimo, sulla sostituzione etnica, qua abbiamo invece una sostituzione culturale, cioè un pezzo di storia dell'Italia, e lo dice uno che è profondamente antifascista, però quel pezzo di storia vi ha cancellato perché è dissonante, dissonante. Ricordatevi questo, ripeto, oggi e domani, se avete tempo, a Cesena. Allora, che fare a una invasività tale dell'Unione Europea? E soprattutto perché propongono una revisione, questa è la cosa da quando ho visto lo storico, continuo a domandarmi, ho anche scritto a un collega giurista che si intende queste cose, anche lui non ha mai saputo la risposta, è arrivato un testo del Centro di Studi sul Federalismo, circola in ambiente accademico, e anche lì, alla fine del documento, anche loro dicono ma perché hanno proposto la revisione dei trattati, soprattutto per quanto riguarda il passaggio dalla unanimità alla maggioranza qualificata? Perché propongono qualcosa che è già stato rifiutato, se non sbaglio, in un non-paper, così vengono chiamati nel gergo comunitario, da ben 13 stati. Perché lo fanno? Allora, la prima, e soprattutto con che prospettive? Perché, ripeto, il Centro Studi sul Federalismo, che è fonte più che è accreditata, dice, ma adesso che succede? Entro quando dovrà decidere il Consiglio d'Europa? Che cosa deciderà, dato che ci sono tanti stati contrari a questo? Allora, una prima ipotesi è che sia semplicemente un'operazione simbolica in preparazione alle elezioni europee, che un'operazione simbolica è però gli è andata male, perché si è spaccata la maggioranza Ursula. La seconda ipotesi, e qua bisognerebbe entrare bene nel testo, è che mettano assieme, facciano un mix di misure che sanno già che verranno respinte, con misure che invece vorrebbero far passare che hanno una certa probabilità, per cui no alla maggioranza qualificata invece di un'animità, ma forse facciamo passare, che so io, maggiori poteri dell'Unione Europea sulla sanità, per dire, piuttosto che sulla difesa. No? Chiaro, metto assieme cose che dice, so che su questo dico no no, però non posso dimmi no su tutto, quindi qualcosina riesco a far bastare. Che dire quindi tutto ciò, questa è la domanda iniziale per quanto riguarda l'Italia e il nostro paese. La situazione non è simpatica, non è simpatica perché Mario Draghi è tornato, l'abbiamo visto, in circolazione e questo non ci lascia affatto tranquilli e non è simpatica perché qua, se magari la regia poi appena finisco vuol mandare il contenuto, abbiamo una Presidente del Consiglio che non ha chiaro quello che dice, soprattutto dice il contrario di ciò su cui è riuscita ad avere la maggioranza dei voti nel paese. Quindi non vedo per il nostro paese ad oggi una situazione promettente, cioè quello che viene sbandierato dalla stampa mainstream come il fronte sovranista lo vedo praticamente evanescente perché se il fronte sovranista è costituito da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni siamo messi veramente male. Io le sento dire di aver detto che bisognava uscire dall'euro, non mi ricordo, ho detto che bisognava uscire dall'euro, mi ricordo che ho detto che l'Italia poteva stare in Europa a testa alta ed è esattamente quello che stiamo facendo. E allora penso che sia arrivato il momento di dire a chiare lettere che stare nell'euro a queste condizioni non conviene all'Italia. Il punto è che sono convinta ormai che sia del tutto inutile provare a convincere la sorda Germania a ragionare. Dunque penso che l'Italia debba dire chiaramente all'Europa noi vogliamo uscire dall'euro. Noi vogliamo uscire dall'euro. Ecco direi che questo video riassume perfettamente quello che diceva professore sul fine del suo intervento e anzi la ringrazio poi per la panoramica che ci ha fatto rispetto a questa ristrutturazione che si sta discutendo dell'Unione, dell'Unione Europea che chiaramente investirà le vite di tutti i cittadini oltre che degli stati. E anzi secondo me questa dicotomia stati-cittadini è proprio voluta dai vertici per rendere la piramide sempre più sottile verso alto. Umberto dicevamo i sovranisti politici, Giorgio Ameloi, la Lega sicuramente non ci fanno ben sperare. Possiamo dire che però questa settimana almeno le sezioni unite della Cassazione un minimo sovraniste si sono dimostrate perché hanno giudicato illegittima la sentenza del Consiglio di Stato per mancanza di giurisdizione perché appunto non aveva ammesso al contraddittorio dei soggetti illegittimati e quindi adesso si aprono nuovi spirali per quanto riguarda la tutela delle concessioni balneari. Se ci puoi dire due parole su questo e comunque se ci sono anche altre notizie che ti hanno interessato. No, su questo io purtroppo mi sentirei di non alimentare troppe speranze nel senso che in realtà la Cassazione ha bocciato per motivi procedurali la sentenza del Consiglio di Stato ma non ne ha riformato il contenuto, cioè non si è espressa in realtà sul contenuto ma poiché era stato violato il principio di contraddittorio ha invitato il Consiglio di Stato a rifare una sentenza, rimettere una nuova sentenza però tenendo conto le novità legislative intervenute nel frattempo e quindi nel frattempo l'Europa si chiaramente è espressa nel senso di dire che la normativa italiana viola il diritto europeo cosa che diciamo in effetti è così infatti era il motivo diciamo alla base della sentenza del Consiglio di Stato e poi se non sbaglio il decreto concorrenza in realtà appunto prevede la fine delle concessioni al 31-12-2023 inoltre c'è un altro elemento di fatto cioè la sentenza del Consiglio di Stato interveniva anche in una vicenda legata alla Sicilia, una questione analoga ma avvenuta in Sicilia però in questo caso la sentenza del Consiglio di Stato non è stata impugnata ed è passata in giudicato quindi abbiamo la sentenza del Consiglio di Stato che diciamo limita le concessioni al 31-12-2023 che è passata in giudicato per quanto riguarda la regione Sicilia e quindi secondo me è verosimile che il Consiglio di Stato ammetterà il contraddittorio però io prevedo che emetterà una sentenza analoga a quella già emessa e analoga a quella in vigore per la Sicilia e in linea con l'interpretazione europea e con la normativa europea quindi secondo me è soltanto un elemento diciamo di rinvio ma non credo che questo intervento in qualche modo cambi la traiettoria legislativa di tutta la questione va bene allora rimarremo ovviamente con gli occhi aguzzati nella speranza che qualcosa si muova in maniera positiva ma come ci hai detto la speranza non è quella che ci deve guidare perché probabilmente il Consiglio di Stato ritornerà allo stesso modo sulla questione vedremo credo che sì va bene signori siamo arrivati al termine della nostra puntata vi ringrazio per essere stati i miei ospiti anche questa settimana grazie a tutti buona giornata arrivederci anche ai nostri spettatori vi ringrazio per essere stati i miei ospiti anche ai nostri spettatori